Amuchina e disinfettanti per le mani impossibili da trovare Recentemente per colpa di questo virus chiamato coronavirus ecco che le scorte di questo prodotto amuchina e di altri gel disinfettanti sono letteralmente introvabili ma c'è anche però una ricetta per riuscire a farsi da solo in casa una ricetta che adesso vi andrò a fornire la ricetta è la seguente, ascoltatemi molto bene per fare un disinfettante da casa che vada a prevenire e a ripulire le mani è sufficiente 833 ml di alcol etilico al 96% 42 ml di acqua ossigenata al 3% 15 ml di glicerina, glicerolo al 98% ed infine acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a un litro ripeto, alcol etilico al 96% acqua ossigenata al 3% glicerina e glicerolo al 98% ed acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a un litro vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua iscrivetevi se vi va commentate al prossimo video vi ringrazio per l'ascolto